Si è tenuto ieri un incontro a Palazzo d'Orleans, a Palermo, con il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sulla predisposizione di un piano straordinario per la mappatura e la manutenzione degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti in Sicilia. Grazie al nuovo piano di gestione e rischi alluvioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, abbiamo a disposizione uno strumento aggiuntivo a tutela dei nostri territori, sempre più colpiti dagli estremi fenomeni meteorologici dovuti ai cambiamenti climatici in atto. Ha detto il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Regione Siciliana, Leonardo Santoro. Tra i diversi aspetti trattati ci sono le relazioni e le mappe tecniche con le caratteristiche idrauliche dei territori dell'isola, le mappe di rischio alluvione, delle aree soggette a cambiamenti climatici e di quelle soggette alle cosiddette piene lampo. Il documento è finalizzato alla riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni che servano a ridurre la pericolosità. L'esperienza del passato, ha continuato Santoro, mostra come i costi dei danni causati dalle calamità idrogeologiche siano ingenti e sicuramente superiori alle risorse finanziarie disponibili. Il nostro obiettivo è quello di privilegiare la programmazione degli interventi di carattere preventivo a difesa del suolo in sinergia con i comuni e le associazioni di categoria per qualificare la spesa per un più efficiente utilizzo delle risorse.